Cari amici della televisione di Quotidiano.net e della Nazione.it, benvenuti al TG della Nazione.it. Tre i servizi in sommario. Oggi l'apertura è per il calcio perché non parleremo di contenuti tecnici ma della protesta civile, garbata quanto ferma, dei tifosi viola contro la formazione di Prandelli dopo la deludente prestazione di Udine e prima della grande sfida con la Roma in programma sabato sera al Franchi. Linea al servizio di Gabriele Lachi. Quella con l'Udinese è stata una sconfitta troppo pesante per essere dimenticata. Era l'occasione d'oro per riprendersi il quarto posto in solitaria ma una delle Fiorentina più brutte senza carattere ed orgoglio dell'intera stagione ha fatto sì che l'occasione si trasformasse in incubo. Un incubo con il quale adesso convivono i tifosi seriamente preoccupati di non farcela quest'anno a raggiungere la zona Champions, obiettivo prefissato ad inizio stagione dalla società con una sontuosa campagna acquisti. Il 3-1 incassato ad Udine ha lasciato il segno sui supporter ragigliati e sembra aver incrinato qualcosa soprattutto nel rapporto con squadre e calciatori. Il tutto la scorsa sera si è tradotto in un grande striscione lungo circa 20 metri e appeso nei pressi dell'ingresso principale dello stadio Franchi nel quale si legge a caratteri cubitali 19.409 vergogna pretendiamo rispetto per la nostra città basta discoteche e più serietà. La protesta vede la firma Curva Fiesole ovvero il cuore della tifoseria Viola e questo non è certo un bel segnale in vista dello scontro diretto di sabato sera contro la Roma. I sostenitori della Fiorentina accusano la squadra non tanto per la sconfitta in sé che teoricamente può sempre starci ma perché è arrivata con una prestazione inguardabile forse la peggiore della stagione e soprattutto nel momento chiave del campionato. Dallo sport passiamo alla politica per riferirvi di quello che è successo in consiglio comunale a Firenze dove la legislatura sappiamo bene come si voti i 6 e 7 giugno prossimi per il rinnovo dell'amministrazione comunale del capoluogo toscano è finita male fra divisioni e spaccature in seno alla maggioranza che ha governato Palazzo Vecchio. Linea al servizio di Luca Renzoni. Litigano in Palazzo Vecchio e vanno a braccetto in regione. È l'altalenante rapporto tra il centro-sinistra e i Verdi in Toscana che nel giorno della grande strappo con il no al piano strutturale fiorentino salutano con favore l'accordo siglato dalla governatore Martini con Enel per lo sviluppo dell'energia geotermica in Toscana. L'accordo ha commentato il verde Fabio Roggiolani a rispetto alla bozza a cui ci opponemmo oltre un anno fa alcune modifiche sostanziali che lo rendono un fatto innovativo e se applicato con correttezza positivo. In particolare i termini dell'accordo parlano di 650 milioni di euro da investire per lo sviluppo dell'energia geotermica. La firma dà subito il via libera a una prima tranche da 170 milioni più della metà dei quali destinati ai 15 comuni toscani sul cui territorio insistono impianti geotermici. Enel si impegna fortemente sui territori con risorse proprie per favorire la ricerca di soluzioni sempre più compatibili sul piano ambientale e si impegna a sviluppare in termini ambientalmente compatibili la geotermia sul nostro territorio. Questo darà lavoro alle nostre popolazioni, darà energia, darà ricerca e ci muoviamo nella linea che sono state tracciate dai documenti della Giunta e del Consiglio regionale. Passiamo alla cronaca. Ogni volta che piove c'è un piccolo paese in provincia di Massa che rimane isolato a causa degli allagamenti. Vediamo di che cosa si tratta in questo servizio curato da Margherita Mazzarella. Ci risiamo. Due giorni di pioggia e Bergella si ritrova sott'acqua, o meglio sotto la sabbia. È emergenza sulle colline Massesi, dove proprio mentre erano in corso i lavori di consolidamento del fronte franoso di Via Brugiana, il terreno ha ceduto di nuovo. Una notevole quantità di terra scivolata verso il basso, finendo sulla carreggiata. E in seguito a questo episodio i tecnici della provincia hanno vietato il transito e isolato di nuovo i due paesi. Un bel guai per i residenti, costretti per la terza volta in meno di due mesi a fare conti con una parziale chiusura della strada. Parziale sì, perché ogni mezz'ora la strada diventa miracolosamente sicura, tanto che viene consentito il passaggio dei veicoli dei residenti. Del resto, come altro fare, sono troppi disagi per chi necessita di un contatto diretto con la valle, bambini, anziani, malati e per chi lassù ci lavora, i ristoratori. Un nuovo smottamento del terreno, Bargana e Bergella di nuovo isolate dal mondo. L'ennesimo problema che si ripete quando piove. Due giorni di acqua, la frana è rivenuta giù. Il problema ora è questo, la gente è stanca di questa situazione e noi siamo in grado di dire che ci sentiamo ostaggi non della frana ma della politica. Perché siamo ostaggi della politica? Perché a questo punto ne crediamo l'intervento del Presidente della provincia che dia fine a questo problema. Ne faccio un esempio, se questa frana fosse successa in Trentino, in Valle d'Aosta, io le dico, le assicuro che in dieci giorni il problema era già stato risolto. Purtroppo è successo a massa e queste sono le condizioni. Due paesi, noi ci sentiamo di dire, ostaggio della politica. Per adesso lungo è passeggiata nel fango per i residenti e nessuna spiegazione da parte della provincia competente per quel pezzo di strada. L'ingegnera Righi era sul posto questa mattina e non ha rilasciato dichiarazioni né ai nostri microfoni né ai cittadini. Rieccoci in studio, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani con il webtg dellanazione.it e di quotidiana.net.